Leader per forza, il titolo del libro che è stato presentato stamattina presso la sala consigliare del comune di Piedimonte Matese, si tratta dell'ultimo lavoro già molto apprezzato di Antonio Furicello, già a cabo gabinetto del presidente Draghi, hanno partecipato il sindaco di Piedimonte Matese Vittorio Civitillo e il presidente della sua relazione Alto Casertano, Antonio De Pandis, hanno invece dialogato con l'autore del libro, Edito Danizzoli, Giovanni Cerchia dell'Università degli Studi. Del Morise e Francesco Fossa, giornalista di Mediaset. In pratica si tratta di un viaggio nel mondo del potere per comprendere maggiormente la figura del leader. Ma qual è il messaggio di questo lavoro? Lo abbiamo chiesto allo stesso autore. Il messaggio è che in questo mondo così complicato abbiamo bisogno di leader capaci di delegare, di organizzare, di pianificare, di guidare la nostra comunità verso il bene comune. Dov'è possibile trovare il libro? Nelle migliori ma anche nelle peggiori librerie. Presente naturalmente anche il sindaco di Piedimonte Matese che ha introdotto l'evento, sindaco Civitillo, un bel momento di cultura quella di oggi. Direi che oltre che un momento di cultura per la presentazione del libro è un momento importante perché celebriamo Antonio Fomicello, che è figlio di questa città, che ha dato lustro a questa città. In anteprima le dico che oggi comunicheremo la nostra volontà di conferirti la cittadinanza onoraria di Piedimonte perché Antonio rappresenta il meglio di questa nostra comunità e lo sta facendo in tutti gli ambiti istituzionali, politici e oggi anche lavorativi. Poi ci sarà anche il momento di cultura, la discussione su un libro che è molto bello, di cui leggeremo alcuni passaggi veramente importanti, anche come segno identitario di questa comunità e come esempio da seguire per i nostri giovani. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per caseltasera.it